ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei fare un video parlando di delle top due azioni comprate da warren buffett che è il più ricco e famoso investitore al mondo che secondo me sono da comprare e tenere per sempre ma prima di vedere quali sono queste due azioni e quali sono i motivi che hanno spinto warren buffett a comprare queste due aziende che secondo me è la cosa più importante da scontare pertanto vi invito a rimanere fino alla fine del video vi ricordo come sempre che questi video non sono sponsorizzati quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi a far crescere il canale per aiutarmi con l'algoritmo di youtube è quello di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti vi ricordo come sempre che io non sono un consulente finanziario pertanto questi video hanno uno scopo puramente educativo e non rappresentano né un consiglio finanziario né un invito ad investire ma addentriamoci immediatamente e cerchiamo di capire qual è la logica che ha seguito warren buffett per comprare queste due aziende sicuramente queste due aziende hanno entrambe dei valori che le fanno diventare quasi dei monopolisti e sono dei marchi potentissimi che warren buffett desidera ardentemente nel suo portafoglio e ha detto che le deterrà per sempre l'oracolo di omar come definito infatti warren buffett non ne ha mai abbastanza di azioni che hanno solidi record di capitalizzazione di valore anno dopo anno e non è troppo sorprendente il motivo infatti grazie a questa filosofia è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo addirittura in alcuni periodi è stato il più ricco al mondo e ha sempre fatto crescere la sua il suo patrimonio possedere infatti azioni di aziende in crescita affidabili significa ottenere il vantaggio del loro successo per tutto il tempo in cui si è disposti a detenerle due società infatti che sono presenti in berger hathaway che è il conglomerato e l'azienda di cui è CEO warren buffett corrispondono a questa descrizione e vale la pena di acquistarle a occhi chiusi se si analizzano in maniera corretta e se si comprende perché le ha acquistate warren buffett soprattutto se si riesce poi a pensare di attenerle per un lunghissimo periodo di tempo la prima azienda che vediamo oggi ragazzi è johnson & johnson che può essere acquistata digitando jj sul vostro broker o contotitoli parliamo di un'azienda che prezza 155,97 dollari ad azione ha una capitalizzazione di mercato di oltre 400 miliardi di dollari un volume medio giornaliero scambiato di oltre 8 milioni di dollari un rapporto pie di 23 circa un dividendo pagato interessante del 2,9 per cento è quotata sul new york stock exchange e ha un indice climatico di sostenibilità finanziaria di grado a come pochissime altre aziende al mondo infatti è leader in ecosostenibilità rispetto ai massimi storici che sono stati raggiunti in realtà a giugno 2022 se è possibile comprarla con un ribasso del quasi 15 per cento sul prezzo delle azioni parliamo di un'azienda fondata nel lontanissimo 1886 con sede in new jersey negli stati uniti a 152.700 dipendenti e il suo CEO è hawking duato perché warren buffett quindi ha acquistato questa azienda johnson & johnson infatti è una holding del bersher hathaway relativamente piccola come percentuale ma è un ottimo esempio di alcuni elementi che puntano a far capire qual è lo stile di investimento di warren buffett questa azienda sanitaria infatti possiede marchi leader nella salute dei consumatori per prodotti che le persone usano ogni giorno come ad esempio i cerotti johnson & johnson e il tylenol questi prodotti hanno fruttato infatti ben 15 miliardi di dollari di guadagni nel 2022 e continuano a fornire entrate ricorrenti che non richiedono molto in termini di spese di marketing oppure nella ricerca e sviluppo per essere mantenute e warren buffett infatti ama i marchi con capacità di resistenza poiché forniscono un fossato economico che va a farle guadagnare il il nome di monopolisti e proteggono quindi le quote di mercato dell'azienda per non parlare poi del suo affetto incredibile per i flussi di entrate a basso costo in generale fornite dai dividendi johnson & johnson infatti ha anche attività farmaceutiche e di dispositivi medici che forniscono entrambe una crescita maggiore rispetto al segmento della salute dei consumatori e poiché si prevede di scorporare il segmento salute di questa azienda in una nuova società nel 2023 questi due segmenti porteranno sicuramente avanti l'azienda johnson & johnson in generale ma gli investitori che acquistano azioni in questo momento e le detengono per un lungo periodo finiranno sicuramente con le azioni di entrambe le entità post scissione e con l'esposizione alla crescita lenta del settore della salute dei consumatori nonché saranno esposti alla crescita più vivace degli altri due segmenti di cui vi ho appena parlato detenere infatti le azioni per lungo tempo ha un vantaggio particolare con johnson & johnson che quasi sicuramente continuerà anche dopo lo spin off dell'azienda il management ha infatti una serie decennale di aumenti di dividendi ogni anno all'attuale prezzo delle azioni infatti il rendimento del dividendo è quasi del 3 per cento gli aumenti affidabili dei dividendi segnalano gli investitori che un'azienda ha capacità di resistenza sotto forma di flussi di cassa stabili che è che la direzione è fiduciosa che continueranno a crescere a lungo termine e più a lungo si è disposti a conservare le azioni di un'azienda maggiore sarà il loro rendimento quindi johnson & johnson è adatto sia per un investimento una tantum che per una strategia mediata cosiddetta dollar cost averaging a seconda delle preferenze di noi investitori la seconda azienda che vediamo oggi ragazzi è apple un big in questo settore infatti prezza 146,71 dollari ad azione è un'azienda con una capitalizzazione di oltre 2320 miliardi di dollari a un volume medio giornaliero scambiato di circa 70 milioni di dollari un rapporto price earnings di circa 25 un dividendo pagato dello 0,63 per cento è quotata sulla borsa del nasdaq e ha un indice climatico di sostenibilità finanziaria di grado a meno rispetto ai massimi storici raggiunti a dicembre 2021 si può comprare in questo momento con uno sconto del 18 per cento sul prezzo delle azioni parliamo dell'azienda e sappiamo sicuramente che è stata fondata nel 1976 a sede in california negli stati uniti conta 164 mila dipendenti e il suo CEO è tim cook cosa possiamo dire di apple e perché è una delle scelte più importanti di warren buffett come investimento apple è un'azienda che quasi tutti se non tutti al mondo conoscono ed è anche la più grande partecipazione nel portafoglio di warren buffett il potere del marchio dell'azienda tecnologica apple è forse impareggiabile a livello globale come dimostra il fascino duraturo dei suoi iphone e dei suoi computer macbook il che aiuta a spiegare perché è uno dei titoli preferiti da warren buffett le persone continueranno sicuramente a tornare a comprare nuovi iphone ogni anno e questo perché nel frattempo apple è capace di vendere ai suoi clienti all'interno del suo ecosistema tutti i tipi di componenti aggiuntivi sotto forma ad esempio di servizi di abbonamento cloud di software tramite il suo app store e di accessori costosi ad esempio come le airpods l'utile netto negli ultimi 12 mesi dell'azienda è stato di 95,2 miliardi di dollari il che sicuramente non è un valore assolutamente da sottovalutare tutt'altro apple sicuramente non ha bisogno di reinventare altri prodotti per continuare ad acquisire vendite di hardware ricorrenti deve solo infatti imparare a fornire miglioramenti incrementali nelle prestazioni della sua tecnologia già sviluppata però la aiuterà sicuramente a evitare di essere coinvolta in una spesa eccessiva nel settore di ricerca e sviluppo per conquistare o mantenere quote di mercato allo stesso modo la recente incursione di apple nel settore dell'elaborazione dei pagamenti e nell'invio di denaro tramite app apple pay significa che la società avrà molte entrate aggiuntive dalla commissione in generale pagata per tutti i suoi servizi per il prossimo futuro e non dovrà nemmeno spendere molto di più per acquisire tali entrate secondo infatti le opinioni che sono state date dal team di management sul valore che apple riesce a garantire in qualità di azienda quasi monopolistica la capacità di effettuare vendite a basso sforzo è probabilmente la migliore arma che ha apple secondo warren buffett questa attività ha infatti molte opportunità per tutti quanti compresi gli investitori indipendentemente da come il prezzo delle azioni di questa azienda vada ad oscillare giorno dopo giorno inoltre le politiche favorevoli agli azionisti di apple non hanno uguali tra il suo dividendo in costante aumento che attualmente rende oltre lo 0,6 per cento e i suoi leggendari riacquisti di azioni proprie più a lungo manterrai le azioni di apple più denaro riceverai in totale infatti apple ha distribuito nel corso della sua storia ben 573,3 miliardi di dollari di capitale tramite il solo riacquisto di azioni dal 2012 e quel totale aumenta costantemente ogni trimestre infine sebbene la sua valutazione in questo momento non sia economicissima il suo rapporto prezzo utile di 26 non è nemmeno troppo costoso quindi è probabile che la società soddisfi ancora la regola generale di warren buffett di pagare un prezzo equo per un ottimo titolo e che potrebbe quindi ulteriormente essere acquistata dal dall'investitore numero uno al mondo anche nel prossimo futuro detto questo ragazzi spero con questo video di avervi dato un interessante spunto su come warren buffett analizza le aziende su quali sono i punti su cui si focalizza fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e condividete questo video se non l'avete ancora fatto inoltre vi invito a lasciare un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao